Andrea, allora, sei appena tornato da Ferrara, hai vinto tre medaglie d'oro, te l'aspettavi, sei contento? Sì, tanto. Per me è una sorpresa per vincere le medaglie. Però non sei riuscito a vincere la quarta medaglia d'oro, cosa è successo? Perché alla quarta medaglia d'oro mi è successa una cosa, per la mia grafica infortunio che l'ho fatto in Sardegna per i 200. Però diciamo che così puoi ancora migliorare, è un obiettivo adesso. Sì, questo è il mio primo obiettivo, per ottenere i riusciti alti. Diciamo che tu sei uno sportivo, perché prima dell'atletica hai fatto tante altre discipline, quali? Le quali? Lo sci, il calcio, il cavallo e anche il karate. C'è qualche sportivo che ti piace di più, a cui ti ispiri? Sì, Usern Bolt. Per me è un risultato straordinario, non solo un gran risultato, perché accogliere questo risultato è stato un ragazzo come Andrea, un bravissimo ragazzo, dove nonostante alcune sue difficoltà è riuscito a sopprimerle tutte, perché specialmente le difficoltà sui salti, le difficoltà su alcune cose, che quando era più piccolino tribolava a farle, adesso li fa veramente molto bene. Da quant'è che segui Andrea? Ah, sono già una decina d'anni. E quindi hai visto crescere questo ragazzo, avevi già intravisto dall'inizio il suo talento, è stato un percorso di crescita continuo? Assolutamente un percorso di crescita. Andrea ha la fortuna di avere una gran famiglia dietro, comunque che l'ha sempre stimolato, e questo è una cosa molto più semplice comunque per un tecnico, perché comunque lui pallavolo, calcio, sci, un ragazzo che è arrivato qua che sapeva già fare delle cose, quindi molto più semplice. L'atletica è stata tutta una conseguenza, ma è stata una conseguenza semplice per arrivare dove è arrivato. C'è tanto lavoro dietro, quindi quante volte alla settimana si allena per dare un'indicazione? 2-3 volte alla settimana, poi quando siamo sotto gara a volte anche 4, ma la media è quella lì sostanzialmente. E sottolineiamo anche il fatto che i risultati di Ferrari in realtà sono solo il seguito di risultati già ottenuti in passato, perché medaglie d'oro ne ha una collezione ormai. Sì, assolutamente sì, è stata una continuazione di un percorso che è iniziato, è iniziato da Madeira, poi siamo passati in Finlandia, comunque la sua crescita continua. Domenica, nella gara di domenica c'è stato un risultato nella batteria subito prima di lui, che abbiamo detto porca miseria, oggi vanno veramente forte, poi invece quando si tratta di correre, alla fine Andrea salta sempre fuori, non c'è storia, è il più forte. Dove conterà davvero sono anche i mondiali, che sono uno dei suoi prossimi appuntamenti. Sì, i mondiali sono in Repubblica Ceca, prossimo giugno, puntiamo al gradino più alto. Poi quello che viene, viene, perché intanto quello che conta è sempre il punto focale che lui conosce bene, è che ci dobbiamo divertire. E questo è il punto di partenza. Poi tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Poi chiaramente con tutti i suoi risultati, noi almeno il podio ci dobbiamo arrivare.